grazie a tutti sono molto contento avanti il prossimo io lei è leonardo di capri tra e tutto qua è un e 62 posso mettere il tacco se comodo comodo tu che hai fatto tu direi il rosa in bocca qua giù scusate io lavoro al cimitero forse sarà qualche petalo ma qua petalo tu hai proprio le rose in bocca e ho vede che hai il rosa in bocca scusate posso avere un bicchiere d'acqua bicchiere d'acqua all'artista ecco qua grazie voglio abbiamo ascoltato attentamente il tuo provino il capo lavoro e ho vede che non capo lavoro e così abbiamo deciso che tu che non vede il rosa in bocca ma non il rosa così in un giardino rosa scusate posso avere un altro bicchiere d'acqua mi puncio un po' qual è il problema non hai un bicchiere d'acqua all'artista stiamo qua a posto grazie oh Don Iva Seta e voglio mantenersi un po' che diabete è la paura è la paura che si seccano le rose e voi non mi fate più cantare ma le tue sono rose che non si seccano lo vedi a quello non era nessuno eppure l'abbiamo fatto diventare il number one e n'era nessuno figuro da te la tue di rosa in bocca c'è solo un piccolo problema però il fisico? no tu stasera vissi portare 5 milioni io? ma mi avete guardato bene secondo voi io la faccio di uno che entra stasera vi può portare 5 milioni ma perché 5 milioni per te sono un problema? uno? sono 5 milioni di problema sentite io ho capito tutto me ne vado ma che capito? vieni a capito prendi un bicchiere là voi non ho sede ah ci capito non tiene sorte eh però di nero rose ma che lo si sono seccato? e te fra qua a Manu c'è stata la signora la nostra banca la banca del mutuo cantante i soldi te li prestiamo noi e poi ci prendiamo coppie di strada che ti facciamo fare matrimoni, feste di piazza qual è il problema? allora non lo sai noi ci siamo ah è vero non lo so ma me lo immagino chi sta capito tutto cosa sei è vero non lo so